Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video di Xemax11 Ragazzi nel negozio oggetti stanno uscendo una bordata di skin e se mi volete supportare in maniera totalmente gratuita codice gradore XEmanuele97 Se anche voi ragazzi volete vincere skin, pass battaglia oppure qualsiasi altra cosa nel negozio oggetti di Fortnite Mi raccomando iscrivetevi al canale, lasciate un bel like e attivate la campanellina delle notifiche per stare sempre aggiornati sui miei nuovissimi video Se voi ragazzi utilizzate il mio codice gradore per una vostra qualsiasi shoppata mi raccomando Mandatemi il vostro video su Instagram Emanuele Morabito trattino basso che vi riposto a tutti ragazzi Detto ciò passiamo all'argomento del video ragazzi Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video Oggi andremo a vedere come fare la missione raccogli i libri da siepi d'agrifoglio e sabbie sudate Però prima di iniziare ragazzi vi ricordo un bel like ozzo e una bella iscrizione al canale Detto ciò let's go Allora ragazzi il primo punto per fare questa missione sarà proprio qui Dove c'è il camion Il parcheggio dei camion in questa bella casotta Ora vi ci porto subito per farvi rendere l'idea per dove saranno questi punti Allora bisognerà entrare di qua Prendiamo sto pompa e il primo libro sarà qui Come state vedendo in foto Ora ragazzi invece passiamo al secondo punto Che appunto sarà uscendo da qui proprio accanto in questa villona La schiera E sarà proprio qui Come state vedendo in foto Ora invece ragazzi passiamo al prossimo punto Il prossimo punto ragazzi sarà entrando in questa bella casona Fatta di mattoni Qua c'è la nostra bellissima cucina Entreremo in questa porta E qua come state vedendo in foto sarà il prossimo punto di sabbie sudate Detto ciò passiamo al prossimo punto ragazzi Allora ragazzi Allora ragazzi il primissimo punto qui a siepi d'agrifoglio sarà appunto in questa bellissima casotta gialla Proprio qui all'angolo come state vedendo in foto Ora passiamo al prossimo punto di siepi d'agrifoglio ragazzi Il prossimo punto sarà proprio qui Ragazzi in questa bellissima casotta Ci basterà entrare di qua E qua ragazzi come state vedendo in foto sarà appunto il prossimo punto di qua di siepi d'agrifoglio Il ping preciso ragazzi appunto è questo E ora passiamo all'ultimissimo punto ragazzi L'ultimissimo punto ragazzi Ce l'avremmo qui sempre a siepi Entriamo in questa stanza E proprio qui ragazzi all'angolo Come state vedendo troveremo l'ultimissimo libro di questa emissione Detto ciò ragazzi Se vi sono stato utile vi invito sempre Iscrivervi al canale Di lasciare un bel like Di condividere il video con i vostri amici E anche un bel commentino per farmi sentire il vostro supporto E noi come sempre ci vediamo ad un prossimo video Ciao ragazzi Ciao